È una prestazione importante, in questa prima parte del campionato abbiamo alternato buone fasi difensive o a volte offensive, occorre una prestazione totale, globale sia per quanto riguarda le due fasi, oggi l'abbiamo fatto, non a caso abbiamo recuperato qualche giocatore importante dalle squalifiche, degli infortuni e dobbiamo fare una prestazione importante come la nostra squadra può fare, l'abbiamo fatta, siamo soddisfatti di questo perché poi quando sei obbligato per vincere non è facile, però siamo stati sereni, abbiamo avuto paura di giocare e abbiamo imposto il nostro gioco con una pressione alta e molto aggressivi e questo mi fa sperare per il futuro come punto di partenza diciamo un buon viatico. Abbiamo un organico importante con varie alternative, però ecco abbiamo visto che abbiamo giocatori ancora non al 100% la condizione come Minincleri, qualcun altro Traini sta rientrando dopo tre mesi di pubagia, quindi è chiaro che magari ci vuole un po' di tempo, però già recuperando qualche altro giocatore possiamo sopperire questa mancanza di condizione totale di qualche giocatore e possiamo soltanto crescere secondo me come condizione e come squadra. Il gioco che abbiamo visto oggi ci fa sperare, però non ci dobbiamo illudire più di tanto perché magari è un buon punto di partenza, perché ci dà fiducia, ci fa capire che se interpretiamo la partita e facciamo bene le due fasi possiamo tirare la nostra, strumenti faremo fatica con tutti, un campionato equilibrato come è questo qui da Serie D, come vediamo c'è grandissimo equilibrio, onore al Porto d'Ascoli che è primo in classifica, però ci sono squadre come il Vasto Girardi, una squadra organizzatissima che abbiamo affrontato mercoledì, si è visto che è un ottimo gioco, è un campionato difficilissimo, bisogna giocare e interpretare le partite al meglio per fare il risultato. Non avevamo fatto male ma avevamo impensalito secondo me molto poco il Pineto e credo che la forza del Pineto anche nel primo tempo si sia vista. Diciamo che eravamo riusciti a rimanere sullo 0-0, non c'erano state occasioni proprio clamorose, però era chiaro che la spinta dei nostri avversari era decisamente superiore alla nostra. Quello che noi riuscivamo a fare, e lo stavamo facendo molto bene secondo me, era quantomeno difenderci con personalità, che riuscivamo anche a tenere la palla, a palleggiare, a uscire. Poi da lì però ad andare a impensalire il portiere c'è ancora parecchia strada e secondo me nel primo tempo queste cose qui non siamo riusciti a farle. Ora io dico che il risultato è rotondo, ma il risultato ci sta, assolutamente, anche in virtù di qualche gol in più che poteva anche uscirci. È una sconfitta legittima che non ci deve assolutamente abbattere perché non eravamo dei fenomeni mercoledì e non siamo degli scappati di casa oggi come adesso va di modo a dire. Dico che comunque contro abbiamo trovato una squadra in un'ottima giornata e che ha degli interpreti d'eccellenza, quindi i miei complimenti sicuramente vanno a Mister Amaule e a tutti gli avversari prima di tutto. Poi noi cercheremo di capire fino a dove sono arrivati i nostri limiti e dove i limiti sono stati evidenziati ancora di più dalla bravura degli avversari. Sono molto contento per tutti i ragazzi perché ce lo meritavamo, meritavamo questa vittoria e soprattutto questa prestazione perché era troppo importante per noi dimostrare principalmente a noi stessi qualcosa di importante. Adesso sono contento anche per gli attaccanti perché fare gol è sempre importante, ci dà fiducia. A differenza di chi gioca, questo fatto che abbiamo segnato tutti e tre dimostra che chiunque giochi davanti dice la sua, quindi siamo fortunati di avere un reparto d'attacco così importante. Grazie.